Ma è successo che Modena poi dal secondo set in poi è iniziato ad alzare il suo ritmo, sappiamo che quando alzano il ritmo loro sono una squadra fortissima, noi purtroppo non siamo riusciti a stare lì dietro, ci abbiamo provato ma quello che abbiamo fatto non è bastato. Ma più che altro dobbiamo pensare a noi stessi, fare il nostro gioco e pensare siccome meno agli avversari, perché noi se facciamo il nostro gioco siamo una squadra che può lottare con chiunque, l'abbiamo dimostrato e quindi dobbiamo pensare a noi. Sì sì sicuramente insomma man mano che si va avanti i miglioramenti si vedono. Adesso da domani si ritorna in palestra per migliorarci ancora di più per lottare contro Milano.